Impianto CV su Volvo 3 serie, vediamo le varie fasi e il materiale installato. Il primo lavoro è stato quello dell'installazione di staffa in acciaio inox lucida by Trekpoint e l'antenna Power, un'antenna sempre by Trekpoint, 800 Watt di potenza, 1,60 m, caratteristica distintiva, pre-tarata, ora ti spiego cosa significa, e massima flessibilità. Pre-tarata in quanto una volta installata è praticamente già perfettamente funzionante. Questa è una caratteristica distintiva che ti permette appunto l'installazione con il fai da te. La staffa è una staffa in acciaio inox che permette di sorreggere appunto un'antenna da 1,60 m ed è idonea sia per Volvo prima serie, seconda serie e terza serie come questo modello. La fase successiva è stata quella di posizionare questo Alan 48 modificato, installare l'altoparlante esterno per migliorare la qualità dell'audio e installare anche il tiretto per rendere ancora più sicura la trasmissione in fase di guida. Quando io tiro poi mi riporta il microfono in posizione. L'Alan 48 è un Alan 48 Old dove ho apportato le modifiche che ora ti farò ascoltare dell'Eco-Core Roger B parla ascolto, modifica della potenza e la parte della mascherina estetica come stai vedendo. Ascoltiamolo assieme. Ora, addizioni prova. Uno. Addizioni per un puntolino cambio. L'apparato, appunto, come ti ho detto, ha l'Eco-Colte effetto elicottero Roger B parla ascolto, potenza e parla ascolto. Io sono un BertoCB by TrackPoint. Il TrackPoint si trova in provincia di Cremona, sulla statale 10 Cremona-Mantla. Dispone, come puoi vedere, di un ampio parcheggio dove puoi arrivare comodamente con il tuo mezzo. Io mi occupo da 33 anni di installazioni e riparazioni di CB su camion, auto, fuoristrada, mezzi agricoli, moto e camper. Per ulteriori informazioni per l'installazione sul tuo mezzo o anche l'eventuale spedizione, il TrackPoint spedisce in tutta Italia, mi puoi contattare i numeri qua in sovraimpressione, allo 0 375 98 340 o anche sul numero di cellulare e anche il numero di WhatsApp il 335 446 595. Ti ricordo inoltre che puoi visitare il sito internet www.truck-point.com, sezione dedicata agli accessori per camion o ai CV, puoi visitare il canale YouTube TrackPoint. Se ti è piaciuto questo video condividilo con i tuoi amici, ti ricordo inoltre di iscriverti al canale YouTube TrackPoint, attivare la campanella per restare sempre aggiornato sui nuovi video. E' Umberto CV by TrackPoint, ti ringrazio di essere stato con me, noi ci vediamo al prossimo video.